Musica Se vuoi acquistare Fifa Points a pressi davvero davvero bassi Passa da Fifa Points Market, pagina italiana, sicura e rischio ban minimo E utilizzando il codice Lazza avrai 5% di sconto sull'acquisto Link in descrizione Wow ragazzi sono Harry Lazza e bentornati in questo nuovo video sul mio canale Oggi ragazzi siamo qui per tentare di fare il draft perfetto ovvero 190 foot draft Così tutto io ormai sapete cosa consiste questa cosa Praticamente dovrà essere appunto un draft e avere valutazione totale di 190 Sarebbe 100 di intesa più 90 sarebbe la valutazione della squadra Quindi non perdiamo altro tempo e anzi se arriviamo a 200 mi piace vedere un altro tentativo Oppure se riusciremo oggi a farcela un altro foot draft, un altro episodio Accediamo con i crediti, mettiamo sì Vediamo il modulo, 433 offensivo dovrebbe essere il migliore in teoria Beh andiamo con il 433 offensivo Vediamo che cazzo di capitani ci escono subito Ok abbiamo Messi però non lo voglio prendere perché lo voglio Totti Opto per Mesutosi Cominciamo qui dalle riserve Vediamo, vediamo Perfetto Neymar e Messi Mi prendo Neymar E spero ancora in un Messi Totti CR7, 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 CR7 97 Eccolo Messi Messi if Vediamo il prossimo Ok Royce Bella merda Ora cercherò di sistemare un po' qui e vediamo cosa viene fuori Dunque ragazzi questo qui è il massimo che sono riuscito a fare 87 di valutazione e 67 di intesa quindi Non siamo riusciti per niente a fare il 190 foot draft, il draft perfetto ma comunque abbiamo dei buoni giocatori che comunque andiamo a provare in queste partite E' valutazione rosa 159 quindi niente Quindi niente Andiamo dentro con la prima partita Dunque prima partita Eccola lì Perfetto ci becchiamo un bel Ronaldo Totti Neymar Messi Praticamente al tridente è uguale al nostro Solo con colori delle carte differenti Cilco Sì, CR Tira Nooo Vai belle istendi 29 Bale 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 Nooo Ndddddddddd Cazzo l'ha preso Occhio Ronaldo Tiralo giuuu Parma Grande Vai Ronaldo 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 Cazzo Sì Lo Sil Le situ Sul 1 a 0 merda sono spacciato palonetto grande form e finisce primo tempo 1 a 0 per noi vai campo aperto campo aperto campo aperto CR7 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 oh zio oh zio per Ronaldo 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 incredible Ronaldo un bambino panculo nei margini se la porta avanti con la puntina incredibile proprio lui ancora Neymar 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 dove cazzo vai a scontrarti vai Ronaldo sì Ronaldo no Ronaldo vai Ronaldo vai vai palometto è palometto no tira io perché non lo so 3 a 0 quitta quitta guarda 1 2 3 oh yeah perfetto 9.5 per bali via con il secondo match ok prossimo team e vai Ronaldo Neymar Bale davanti quelli lì non mancano mai in un draft ok forse no gol io io porto vai vai bay 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 1 a 1 numero di Neymar sventagliata ottima ma che cazzo fai messi porca troia guarda la merda guardalo là ha 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 fine half time first half time risultato di 1 a 1 2 a 1 marcat solo per noi is gary bear tomacola brutta infame di merda stupida cretina gara 77 boom no messi di merda segna gol oh tira no rete Neymar JR brutto bagarospo ti insegno io a ridere quando una cosa non fa ridere la parola con il messia il messia dio porca 3 a 1 ci chiammi il cazzo gol cioè l'ha ucciso proprio ronaldo con il 4 contro farman 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 c'è merda ma il karma no no non può farmi questi gol no non può farmi questi gol bello questo schermo di insegni dopo allenamento e finisce questa raga finisce qua ora per cause forze maggiori in quanto no vabbè parte di scherzi la prossima partita non la registrerò perché altrimenti i video verrebbero una cosa assurda un video troppo lungo e ci vediamo con l'apertura dei partiti perfetto ragazzi come non detto abbiamo perso subito la partita successiva per 3 a 1 questa qui aveva una squadra della madonna e faccio anche subito vedere chi aveva questa qui era la sua squadra Neymar Suarez Nigtarian Turi Matui Di Messi Alves Godin Cech Ronaldo e Went Lewandowski Ma erano tutti If Record Breaker eccetera comunque vabbè vediamo che premi ci danno pacchetto oro premium maxi e pacchetto oro premium che non li so distinguere comunque vai con il primo vediamo 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 che merda pensava fosse Benzemao vabbè Remy 2000 crediti vai con l'ultimo pacchetto non lo guardo non lo guardo vado in fondo vado in fondo dovrei essere arrivato vediamo 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 ma vaffanbrodo che merda Jonas upgrade mille cazzo di crediti quindi ragazzi questo video finisce qui spero vi sia piaciuto lasciate un bel like ragazzi arriviamo a 200 mi piace e vi porto un altro foot draft come salve ragazzi passate da Diego Mario in descrizione con il codice inoltre a vendere fifa points ragazzi hanno anche le gemme per clash royale praticamente sono ora non mi ricordo il prezzo comunque contattateli in chat e ve le mettono direttamente dentro al vostro account di clash royale sono tipo 12.000 gemme ma a un prezzo meno della metà ecco quindi passate anche lì per vendere le gemme facebook twitter e instagram in descrizione iscritto al canale sono ancora fatto quindi ragazzi qui da lì inoltre ragazzi se volete acquistare completini da calcio passate da Diego Magli il link in descrizione e con il codice LASA avrete 5 euro di sconto su ogni acquisto